Oh AC Milan! Ciao ragazzi! Allora sto guardando con voi, siamo al 94esimo parata di Pepe Reina in una partita che, ma voi adesso, voi, 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 voi che siete la mia famiglia dei milanisti e quindi vi considero come se fossero i miei fratelli, ma a voi vi pare che io che ho visto Paolo Maldini alzare le Champions League, io che ho visto Franco Baresi alzare le Champions League io debba soffrire 18 minuti in casa con il Judy Lunge, cioè neanche fossero il Birsheva Ragazzi ma come diavolo si fa, appena finita tra l'altro, appena finita Ma come diavolo si fa ragazzi a andare sotto 2 a 1 con il Judy Lunge in casa Ragazzi questi sono dei scappati di casa, ma però mi fa pensare che qualcuno dei nostri giocatori a questo punto si è ancora più scappato di casa rispetto a quelli del Judy Lunge perché noi onestamente ragazzi andare sotto 2 a 1 in casa è una roba veramente oscena Detto questo ragazzi lo sapete, pollice in su al video e iscrizione al canale Allora, facciamo un attimo un post partita bello veloce Tra l'altro ragazzi grazie di cuore a tutti prima che c'era nella live di oggi pomeriggio cioè di poche ore fa praticamente siamo andati, mi hanno detto che siamo andati ancora in tendenze Italia con la live quindi grazie, grazie di cuore a tutti Allora, veniamo prestazioni dei giocatori Reina, voto 6, né più né meno non ha parato niente i gol ovviamente non poteva fare niente Daviduccio Calabria, terzino di destra ha spinto per... Ma però ragazzi queste, queste, diciamo che queste pagelle sono molto molto vincolate al fatto che comunque il Judy Lunge, l'è il Judy Lunge cioè mia mamma direbbe il Judy Lunge, l'è il Judy Lunge cioè non è, non stiamo parlando di una squadra però Calabria, voto 6, 6 e mezzo Simic con numero 56 Devo dire che il giocatore è ancora molto molto acerbo si vede da determinati movimenti però il ragazzo sa da fa secondo me sa da fa un ragazzo che comunque verrà fuori bene Zapatone, numero 17 centrale di sinistra di difesa dei due centrali bene la sua prestazione, né più né meno non mi è piaciuto invece il terzino dall'altra parte che è l'Axalt non mi è piaciuto prima dei cambi veniamo alla formazione con cui siamo entrati in campo Alilovic buoni i primi 3 o 4 minuti e poi per i restanti 60 minuti che è rimasto in campo abbiamo capito perché Gennaro Rino Gattuso non lo mette mai in campo si è perso poi tatticamente andava dove voleva lui molto molto è un giocatore secondo me che anche lui è giovane un giocatore che sa da fa pure lui però è un giocatore che secondo me attualmente non è pronto abbiamo capito perché perché non gioca mai Bakayoko e poi dopo l'altro centrale di centrocampo faccio un discorso a parte Bakayoko che adesso si è fatto male è uscito al 93esimo adesso poco prima che iniziassi a fare questo video spero che non sia niente di particolare perché comunque noi del gemello pisellone abbiamo molto molto bisogno numero 16 centrale di centrocampo pentolacci allora io adesso io adesso non so se voi qua riuscite a vederlo io vi giuro tutto quello che volete che sulla pagina i milanisti io 40 minuti fa cioè quindi quando stavamo perdendo 2 a 1 non so se si vede dopo vi faccio lo screenshot e ve lo incollo qua da qualche parte ho scritto esce pentolacci e ora la vinciamo ragazzi l'abbiamo vinta veramente cioè pentolacci è una sciagura una completa sciagura una completa sciagura lui e il suo amico perché sono migliori amici a milanello lui e l'altro suo migliore amico di montolivo devono andare via il prima possibile perché sono due sciagure per la c milan esterno di centrocampo di sinistra c'ha la noglu molto molto bene pentolacci mi sono dimenticato voto 4 baccaio co voto 6 né più né meno c'ha la noglu che è stato dentro nei gol quindi molto molto bene il turco 10 che finalmente ha finalmente la messa devo dire con un po' di complicità del portiere che ha fatto un po' una paperetta però vabbè qualche lei anche lui Iguain Nii 6 si è dannato ma poteva metterla aveva stato sfortunato in due o tre occasioni e il cutro invece che l'ha messa quindi il cutro cuore d'oro sempre voto 7 per il cutro oramai glielo diamo ora glielo diamo di default al cutro è entrato Suso ha fatto la differenza come al solito vabbè ma quando il livello dell'avversario è così basso è ovvio che dopo chi entra qualcuno un pochino più forte fa la differenza Jose Mauri molto molto bene anche lui e niente poi non mi ricordo chi è entrato di altri però vabbè ragazzi partita che mi stavo vergognando vergognando mi veniva voglia di bere dalla nostra tazza ufficiale del canale mi veniva voglia di bere la candeggina quando stavamo perdendo 2 a 1 come quando ah Borini è entrato anche vabbè che ha segnato mi stavo dimenticando i Borini Eminem Borini che è entrato primo pallone che tocca segna che tra l'altro su un grandissimo grandissimo tiro poco prima di Ciananoglu perché lui che prende la traversa e poi gli arriva tra le gambe a Eminem Borini quindi ragazzi partita che nel complesso mi ha fatto un po' vergognare per i 18 minuti in cui noi siamo stati sotto di 2 a 1 ripeto noi non siamo il Birsheva anzi loro non erano il Birsheva la partita che è finita è completamente diversa avanti così adesso nell'ultima partita abbiamo tre risultati perché vi dico tre risultati perché possiamo vincere passiamo possiamo pareggiare passiamo e possiamo anche perdere però nell'ultima partita con un gol di scarto se perdiamo più di un gol di scarto andiamo in seconda in seconda posizione non usciamo non mi ricordo comunque vabbè non arriviamo primi loro di Udelange squadra veramente scarsissima che si prende un bel 5 gol da noi ma probabilmente ne ha presi molti di più in tutto il girone di Europa League magari Champions League ma Champions League non trovavamo di Udelange ragazzi questo è tutto era il subito il subito post partita la live reaction di Milan di Udelange bene così avanti sono un po' preoccupato per la partita di domenica alle ore 12.30 con il Parma ma di questa partita faremo un pre partita di questa partita ne parleremo nel pre partita ammazza che frase difficile di questa partita faremo un pre partita sabato di cui parleremo bene di Milan Parma che si giocherà alle 12.30 di domenica detto questo ragazzi lo sapete pollice in suo al video iscrizione al canale grazie di cuore a tutti vi ringrazio ancora un'altra volta per chi c'era prima la live abbiamo fatto record record di presenze record di visualizzazioni e siamo andati in Tendenza Italia e questa cosa mi fa molto 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 piacere un saluto a tutti un abbraccio fate l'amore con le persone che vi piacciono che preferite e niente ciao ragazzi forza Milan vado via il clinter ciao ciao